Come siamo arrivati fin qui? L'essere umano è affamato dal desiderio di scoprire, di inventare, di costruire. Il futuro dipende dalla nostra capacità di portare avanti queste idee. Una responsabilità che ricadrà sulle spalle delle nuove generazioni. Ma ogni nuova scoperta... ...comporta dei rischi, dei sacrifici e delle conseguenze. All I want... ...to be... ...in my... ...all I want... ...to be... ...in my... ...all I want... ...to be... ...in my... ...to be... ...in my... ...to be... ...all I want... ...to be... ...to be... ... ...all I want... ...to be... ...all I want... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.